Si è conclusa al quarto posto la partecipazione dei Golden State Warriors dell'Istituto Generale Baldassare di Trani al final event della Junior NBA FIP League svoltosi al Palafonte di Roma. A vincere sono stati i Chicago Bulls di una scuola della capitale che hanno così conquistato il prestigioso anello del torneo organizzato per le scuole medie della Federazione Italiana Palacanestro e della National Basketball Association con il supporto dei comitati regionali FIP Lazio, Marche e Puglia e sotto legida del Proveditorato agli studi. Una grande festa ha così chiuso nel migliore dei modi la terza edizione di una manifestazione che, dopo due anni di rodaggio in terra romana ha esteso i suoi confini ad Ancona e Bari. Triplicate le sedi di gioco, il numero di giocatrici e giocatori impegnati oltre 1.500, le partite disputate, 448 in totale e triplicato anche il divertimento per le 90 scuole che per tre mesi, da marzo a maggio, sono scese in campo con le mitiche jersey delle franchigie NBA. Per tutti i ragazzi pugliesi partecipanti, accompagnati dall'insegnante Giuseppe Laminafra e dalla responsabile organizzativa Stefania Scaramuzzi oltre che osservati dagli spalti dalla Presidente FIP Puglia Margaret Gonnella è stata senza dubbio un'esperienza indimenticabile. A premiare le squadre finaliste Gaetano Laguardia, Vicepresidente Vicario FIP Chris Bueno, Vicepresidente NBA per le operazioni in Europa, Africa e Medio Oriente Giacomo Galanda, Consigliere federale e responsabile del settore scuola FIP Bossia Nashbar, ambasciatore del progetto Junior NBA e Maura Catalani, rappresentante dell'ufficio scolastico Regione Lazio Fare squadra nello sport aiuta sempre, ha osservato Galanda Grazie a questo torneo rafforziamo il rapporto con una realtà importante come NBA che ci supporta nell'obiettivo di entrare nelle scuole e far scoprire a tanti giovani questo bellissimo sport Questo è un programma scolastico che dà l'opportunità a tanti ragazzi anche quelli che non giocano abitualmente a palacanestro di provare a innamorarsi del basket